Marco si sta interessando a come investire i suoi soldi, ma ha bisogno di una mano per capire come muoversi al meglio. Non vorrebbe fare investimenti eccessivamente rischiosi. Al telegiornale sento spesso parlare di mercati finanziari. Sembrano una cosa lontana dalla realtà. Mi sapresti spiegare meglio di cosa si tratta? Hai ragione. In effetti i mercati finanziari non sono come il mercato sotto casa. Con mercati finanziari si fa riferimento a quei mercati dove coloro che hanno dei risparmi non utilizzati li trasferiscono a coloro che ne hanno bisogno. Tipicamente le famiglie accumulano risparmi e li investono in strumenti finanziari che consentono agli stati e alle imprese di fornire servizi e finanziare investimenti. Spesso i ruoli si invertono e è la famiglia a usufruire di queste risorse, ad esempio accendendo un mutuo per l'acquisto di una casa. Ma perché i mercati finanziari sono così importanti? Il motivo principale è che se funzionano bene fanno affluire risorse da chi ne ha in eccesso a chi ne ha bisogno per finanziare attività produttive come costruire ponti, comprare nuovi macchinari, sviluppare nuove ricerche. Dal lato del piccolo investitore i mercati finanziari rappresentano un'opportunità per realizzare un investimento e di conseguenza per accrescere la propria ricchezza. Come avviene il trasferimento di denaro? Può avvenire tramite l'intermediazione di una banca o tramite lo scambio di uno strumento finanziario come azioni e obbligazioni derivate direttamente sul mercato. Nel primo caso tu depositi i tuoi risparmi presso una banca che li presta ad un'impresa. Nel secondo caso tu acquisti direttamente strumenti finanziari tramite un operatore autorizzato come ad esempio banche, fondi comuni di investimento, società di intermediazione mobiliare. Fermati un attimo. Azioni ed obbligazioni. Me ne hanno parlato proprio ieri in banca. Puoi aiutarmi a capire meglio cosa sono? Certamente. Comprare azioni equivale a comprare una parte del capitale di una società, detta per l'appunto per azioni. Ne diventi socio. Con le tue azioni hai diritto a partecipare all'assemblea della società anche se questo non interessa di solito il piccolo investitore. L'aspetto principale è che investendo in azioni puoi ricevere un dividendo se la società produce utili e decide di distribuirle ai suoi azionisti. Inoltre, puoi beneficiare o avere uno svantaggio dall'aumento o dalla diminuzione del prezzo del titolo. Ho capito. Ma cosa decide il valore, ossia il prezzo dell'azione? Per le aziende quotate in borsa il valore viene stabilito dal mercato. Dipende da molti fattori, fra cui principalmente le prospettive dell'azienda di generare profitti nel tempo, aspetto che risente dall'andamento dell'economia in generale. L'azione ti dà diritto a ricevere dividendi futuri dell'azienda. Il suo prezzo ne sconta quindi dividendi e può variare molto. Ecco qui un esempio. Il grafico ti mostra l'andamento del prezzo di un'azione del mercato italiano. Nel gennaio 2016 l'azione valeva 8 euro. In febbraio il prezzo è diminuito fino a raggiungere un valore pari a 6 euro. Vedi poi quella significativa diminuzione avvenuta nel giugno 2016? È dovuta al referendum sulla Brexit che si riteneva avrebbe influenzato negativamente l'andamento dell'economia e i profitti delle aziende. Insomma, siamo sulle montagne russe. Come faccio a valutare il mio investimento? La bontà di un investimento in azione è in primo luogo misurata dal suo tasso di rendimento. Nel caso delle azioni il rendimento si compone di due elementi, i dividendi e il guadagno in conto capitale, detto anche capital gain, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Per capirsi, se oggi compri il titolo al prezzo P e tra un anno ricevi il dividendo D e rivendi il titolo al prezzo Q, il tuo guadagno sarà dato da D il dividendo e da Q-P il guadagno in conto capitale. Se poi dividi il valore così ottenuto per il prezzo di acquisto dell'azione e lo moltiplichi per 100, ottieni il tasso di rendimento espresso in termini percentuali. Te lo puoi calcolare da solo o te lo fornisce un intermediario finanziario nel rendiconto sul tuo portafoglio, cioè l'insieme dei tuoi investimenti. Quindi devo guardare al tasso di rendimento per capire se sto guadagnando o se sto perdendo? Sì, facciamo un esempio. Supponi che acquisti l'azione a 70 euro e tra un anno ricevi un dividendo pari a 2 euro. Se rivendi il titolo a 78, il tuo tasso di rendimento sarà pari a 78 meno 70, che è il capital gain, più 2, che è il dividendo. Diviso 70, cioè il prezzo dell'azione. Ottieni un tasso di rendimento del 14%. Ma se sei sfortunato e rivendi l'azione in un momento in cui il suo prezzo è diminuito, ad esempio è pari a 61 euro, allora il tasso di rendimento sarà pari a meno 10%. Come vedi, il rendimento dipenderà molto dal prezzo di vendita e può essere anche negativo. In tal caso subirai una perdita. Insomma, comprando un'azione si rischia. Sì, esatto. Investire in azioni può portare grossi guadagni, ma anche grosse perdite, se il prezzo di mercato varia. Ad esempio, il fallimento dell'azienda porta ad un azzeramento del prezzo e alla perdita dei risparmi investiti. Non si ha una rete di protezione se le cose vanno male. In poche parole, le azioni sono rischiose perché il loro andamento nel tempo è incerto. Grazie, farò attenzione.